Nell'epoca dei social media, della comunicazione digitale, c'è una categoria di persone per la quale l'unica forma di contatto con il mondo esterno rimane la classica lettera da spedire. E' questo infatti molte volte l'unico mezzo che possono utilizzare i condannati a morte, rinchiusi nel braccio della morte dei penitenziari americani, per tenere quindi vivo un legame con il mondo esterno. E grazie alla comunità di Sant'Egidio molti prigionieri condannati a morte utilizzano questa opportunità per uscire in qualche modo dalle loro ocelle. Responsabile del progetto è Stefania Talley, buongiorno, benvenuta. Salutiamo anche Salvo Noè, psicologo, e Mario Armani collegato con noi dalla sede RAE di Trento, buongiorno. Partiamo da lei, per raccontarci com'è nata questa iniziativa. La campagna della corrispondenza è nata dalla lettera ricevuta da un ragazzo molto giovane dal braccio della morte. Diceva, so che non potete fare molto per aiutarmi, ma forse potete scrivermi. Così gli abbiamo risposto ed è nata, abbiamo capito, capito il loro mondo, i loro problemi, i loro pensieri. E abbiamo capito che dovevamo fare due cose. Da una parte corrispondere con loro a essergli vicini e aumentare, conoscerne tanti. Da un'altra parte avviare una campagna per l'abolizione della pena di morte nel mondo. E a tal proposito, infatti poche settimane fa Papa Francesco ha modificato proprio la norma del catechismo della Chiesa Cattolica che è relativa alla pena di morte, dichiarando che è inammissibile e va assolutamente abolita in tutto il mondo. Allora, guardiamo questo RVM. Il comandamento non uccidere ha valore assoluto, riguarda sia l'innocente che il colpevole. Faccio appello alla coscienza dei governanti affinché si giunga ad un consenso internazionale per l'abolizione della pena di morte e propongo a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare che nessuna condanna venga eseguita in questo anno santo della misericordia. Dunque, Talley, questo progetto oltre ad ascoltare i pensieri, i bisogni dei condannati a morte si è proceduto anche a degli appelli ai governatori degli stati americani per in qualche modo salvare, si è riusciti a salvare questi condannati? Si è creata una rete di sostegno ai condannati a morte con appelli urgenti attraverso il sito della comunità di Sant'Egidio che anche cura la corrispondenza con i condannati a morte. Oggi si parla un po' meno di pena di morte. Ci ha aiutato, adesso abbiamo ascoltato Papa Francesco nell'estate, Papa Francesco nel mezzo di questa estate ha cambiato il catechismo della Chiesa Cattolica. E' una cosa importante, ha dichiarato l'inviolabilità e la dignità della vita in ogni circostanza, anche per chi ha commesso le cose più terribili. Attenzione, non ha detto che non c'è pena, ma che non c'è pena senza speranza. I condannati a morte hanno bisogno di speranza, noi abbiamo bisogno di speranza, tutti, il mondo intero ha bisogno di speranza. Noè, ma scriversi, come in questo caso, fa bene a entrambe le persone, fa bene anche a chi scrive? Sì, fa bene a chi scrive perché dà un aiuto a chi sta scrivendo, ma soprattutto fa bene a chi è condannato a morte perché ricordiamoci che queste persone sono isolate, non hanno contatti con il mondo e quindi la lettera diventa l'unico modo per restare in contatto. Queste lettere, sicuramente la signora ci spiegherà meglio, sono piene di sentimenti buoni, positivi, perché chi ha sbagliato, non è detto che non si redima e che non possa avere una possibilità, ecco questo è il messaggio. E poi l'altra domanda che mi faccio è, come può uno Stato uccidere delle persone e poi dire ad altre persone è sbagliato uccidere? Cioè questo è un paradosso e quindi in qualche modo io sono per chi fa un'evoluzione, perché si può sbagliare, si può sbagliare in maniera abbastanza negativa, ma si può anche rimediare e trovare nuove possibilità. E i condannati di solito nelle lettere scrivono delle cose che veramente fanno pensare. Io leggendo alcune lettere penso che la morte, cioè il fatto di sapere di morire, molte volte attiva dentro di noi la voglia di vivere meglio il tempo che rimane. E questo è un messaggio molto importante per tutti, perché delle volte noi sprechiamo le nostre giornate, le roviniamo, magari poi quelle lettere lì e quei messaggi lì possono attivare in noi una consapevolezza importante per dire ma perché non viviamo bene la nostra vita di adesso, perché non cominciamo a fare del bene e farlo bene. Mi viene da pensare che queste lettere dovremmo leggerle tutti allora. Allora andiamo però da chi queste lettere le ha ricevute e ha risposto da Trento. Mario Armani, lei è stato in contatto con questo ragazzo giovanissimo, Darwin, condannato a morte in Oklahoma. Ci può raccontare questa esperienza? Che cosa le ha insegnato? Sì, buongiorno a tutti. Sono entrato in contatto con Darwin Brown, che era detenuto nel carcere nel braccio della morte di McAllister in Oklahoma nel 1998. Grazie alla comunità di Sant'Egidio che mi ha messo in contatto, che mi ha dato questa occasione, questa possibilità, e un po' per la mia esperienza professionale. Io sono un professore di diritto, insegno all'Istituto Tecnico e con i miei studenti abbiamo sempre affrontato temi legati alla cittadinanza, alla cultura della legalità e chiaramente anche al problema della detenzione, la Costituzione e l'articolo 27. Accettare di entrare in questa corrispondenza è stata un po' una, anche per me, una sfida, poi penso la valuterei anche come un'avventura, che ha occupato una parte della mia vita perché è durata dieci anni. Questa corrispondenza si è interrotta nel 2009 quando purtroppo per Darwin è arrivata l'esecuzione della condanna a morte. Dalle prime lettere ho scoperto, ho trovato un uomo, un ragazzo, giovane, perché aveva poco più che i miei studenti, un ventenne, aveva commesso questo delitto, questa rapina con l'uccisione, due anni prima, quindi era appena diciottenne. Una vita di un afroamericano nell'Oklahoma, che è un po' un'America profonda, quella di Paris, Texas, Thelma e Louise, ecco, per dire, con dei film più noti. In una progressione dall'età di 14 anni, piccoli furti, spaccio di droga, sempre appunto poi un po' di detenzione, fino a questo fatto più grave, commesso da balordo, diciamo, ecco. Ho trovato un uomo ferito, ma soprattutto un uomo isolato, un ragazzo isolato. Aveva perso i contatti con la propria famiglia, credo che non sia facile essere familiari di un condannato a morte. Ecco, questa lettera, queste prime lettere, gli hanno, come dire, aperto anche quella che per lui è stata un po' una via anche di libertà. Lui mi diceva, sono qua seduto nel braccio della morte, dove dal momento della condanna non aveva più visto un filo d'erba o un albero, perché il carcere di McAllister è interrato, vivono sempre in condizioni, diciamo, con la luce elettrica e senza contatto, diciamo, con l'esterno. Ecco, io credo che in questa corrispondenza, che poi negli anni è cresciuta, si è allargata, io ho coinvolto anche i miei studenti, amici, diciamo, in questa storia, ecco, è rifiorita, mi sembra, un po' il senso della vita. Darwin ha riscoperto o ha ritrovato un senso di un'umanità che in qualche modo si era come annientata dal peso di questa colpa, ma anche dall'isolamento in cui è stato costretto. Credo che, diciamo, sono state cose anche che sono cresciute nel tempo. Lui ha scritto una lettera anche semplice, per certi aspetti anche un po' ingenue, ai miei studenti, chiedendo, dicendo loro di non fare gli sbagli che aveva fatto lui. Ecco, ha dimostrato poi nel corso degli anni, in momenti alterni, più positivi, in alcuni momenti, momenti molto brutti. Professore Armanni, una cosa, lei ha detto che la corrispondenza è durata dieci anni, sappiamo che le ha scritto anche il giorno prima di essere giustiziato, ce la può leggere, ci può dire quello che ha scritto? Questa lettera l'ho ricevuta una settimana dopo la sua esecuzione, e mi scrive con queste ultime parole, Addio, caro amico, ringrazio te, tua moglie e tua figlia Jessica, per avermi accolto nella vostra vita. Grazie per il sostegno e l'amicizia delle tue lettere, piene di ottimi consigli. Grazie ai tuoi studenti e amici che mi hanno scritto. Grazie Mario, vado a stare con Dio. Ti mando il mio amore, il tuo amico Darwin. Ecco, mi è sembrato che anche in queste ultime parole ci sia anche un inno, diciamo un po' in qualche modo, un ringraziamento all'amicizia e al sostegno. L'essere incluso nella mia famiglia, ecco, mi è sembrata anche una cosa molto particolare, diciamo, non l'ho mai visto, Darwin, non abbiamo mai avuto un contatto. Ecco, si è sentito ripreso dentro un tessuto umano, un tessuto non solo sociale ma anche affettivo e più largo anche del mio ambiente, quindi dei miei studenti, degli amici. E io credo che questo abbia anche dato a lui, restituito appunto quello che il Papa diceva, la dignità umana. Perché non è stato schiacciato nella sua colpa, schiacciato nel suo errore di cui lui poi ha chiesto perdono, ha fatto anche un cammino spirituale, diciamo, di riscoperta in qualche modo della sua fede religiosa, mi scriveva, mi ha scritto negli anni anche di questo. Però ecco, io credo che questo senso dell'amicizia, questo essere inserito è considerato una persona umana. Ecco, io credo che questo senso dell'amicizia, questo essere inserito è considerato una persona umana. Ecco, io credo che questo abbia cambiato in qualche modo la sua storia in un ambiente in cui diceva è difficile mantenere la lucidità, in un ambiente di quale quello, dove un disegno, i disegni che gli mandava mia figlia che era piccola, Jessica, gli restituivano il sorriso, gli ridavano serenità. Ecco, fatto anche di piccoli gesti, veramente le lettere sono state numerose in questi anni, ma alla fine è anche un numero, diciamo, limitato. Ecco, allora Noè, la forza di chi scrive queste lettere come il professor Mario è anche quello di lasciare da parte un crimine che è stato commesso e tirar fuori l'umanità di una persona che è pur sempre appunto un essere umano, con le sue paure, i suoi dubbi. Noi siamo esseri umani, possiamo sbagliare, possiamo avere delle colpe veramente rilevanti, ma non dimentichiamo di essere umani, ecco, questa è la cosa importante. Quindi in questa corrispondenza esce fuori l'umanità, che secondo me, da un punto di vista psicologico, religioso, da tutti i punti di vista è la cosa più importante che possiamo imparare da questo spazio, cioè l'umanità. Ecco, dovremmo ritornare a portare l'umanità, quindi l'essere umani, in primo piano. E dalle lettere esce fuori tantissimo questo aspetto, esce fuori l'amore, esce fuori il perdono, esce fuori il pentimento. E quindi questi aspetti qui possono sicuramente darci una possibilità anche di riflessione a tutti noi, che non siamo condannati a morte, ma che possiamo esserlo dentro di noi, con le nostre convinzioni limitanti, molte volte con la nostra vita che non procede, seguendo la nostra vocazione, è quello che possiamo fare. Tra lei, come si fa a diventare amico di penna di un condannato e se poi c'è la possibilità di poter leggere anche queste lettere e se farlo fare anche degli adolescenti, ovviamente, seguiti? Io intanto voglio dire che le parole del professor Armanni danno senso a questa iniziativa, spiegano il senso di questa iniziativa. Voglio dire soltanto una cosa, che noi viviamo in un mondo pieno di paura, ma dietro questa paura, che mette in secondo piano i valori, anche quelli in cui crediamo, però c'è un interesse. E l'interesse è le migliaia di richieste che riceviamo attraverso il sito. Ecco la risposta alla domanda, dal sito di Sant'Egidio, www.santegidio.org, dove c'è uno spazio come aiutare. Aiutare è un'esigenza, è un nostro bisogno, è un bisogno di avere speranza in ogni circostanza per gli altri. È il fatto che noi, migliaia di persone, che chiedono, io ho registrato 2000 contatti, 2000 amicizie di penna, ma saranno sicuramente molte di più. E è l'esigenza di fare qualcosa, di non dire che mai in nessuna circostanza non si può fare niente. È il bisogno del nostro mondo, è il bisogno di speranza. Grazie. Grazie a Stefania Talley della comunità di Sant'Egidio, Salvo Noè, Mario Armand, in collegamento. Grazie per essere stati con noi. E adesso cambiamo argomento, diamo la linea alla nostra... Eccola lì, pronta, Antonia. Vido.